Ieri durante il Consiglio Comunale abbiamo chiesto come Gruppo Lega con un'interrogazione orale urgente di revocare immediatamente l'ordinanza delle limitazioni del traffico per domenica. Purtroppo il Sindaco ha preferito non rispondere, quindi ancora una volta rimaniamo basiti al comportamento perché visti i danni che hanno procurato ai commercianti, esercenti, ai residenti di tutto il centro storico e anche delle zone limitrofe, perché abbiamo visto che il traffico si è condensato in tutte le zone perimetrali, noi abbiamo chiesto la revoca di questa ordinanza e se non verrà revocata siamo costretti a chiedere le dimissioni di mascarine, perché un assessore all'ambiente sa benissimo che queste azioni sono completamente inutili. Il traffico veicolare rappresenta il 20% delle emissioni di polveri sottili. In questi giorni, quindi lunedì e martedì, dove l'ordinanza non era presente, le polveri sono drasticamente scese sotto il livello minimo, addirittura ieri il minimo da gennaio di questo anno. Quindi sappiamo benissimo che queste azioni non servono a niente se non per un mero spot elettorale, quindi chiediamo la revoca e come in modo molto simpatico apprezziamo che Ricci, il sindaco di Pesaro abbia praticamente preso tutte le proposte che noi abbiamo contenuto in una mozione e le ha trasformate in un'ordinanza in cui limita il riscaldamento domestico, che rappresenta il 40% delle polveri sottili, e propone il lavaggio delle strade vicino alle abitazioni dove c'è la centralina di Pesaro. Pesaro fa questo e noi, come sempre, dobbiamo danneggiare le persone che lavorano e che abitano in centro storico.